a palazzo fondi in via medina napoli la mostra brick mania da una collezione privata dedicata alla passione per i mattoncini lego progetto itinerante che in occasione della mostra a napoli propone anche un ritratto in versione lego di totò il mondo dei mattoncini lego nasce nel 1932 in danimarca la mostra si può visitare fino al 27 gennaio qualche altro appuntamento le 17 ad afragola all'istituto europa unita del rione salicelli la manifestazione